Centro commerciale Mongolfiera Taranto. Che fantastico Natale! Vieni a visitare la casetta nell'albero di Babbo Natale e partecipa agli eventi. 15 dicembre dalle ore 17 giochi e selfie con gli elfi. 16 dicembre dalle 17 incontra Babbo Natale. 22 dicembre dalle 17 incontra Babbo Natale e il pestifero Grinch. 23 dicembre dalle 11 incontra Babbo Natale e il pestifero Grinch. 23 dicembre dalle 18 la tombolata dei piccoli. Domenica 23 dicembre aperti fino alle 24. Partecipa all'estrazione dei pacchi fortunati col grande gioco dei regali di Natale. In palio fantastici buoni shopping. Start ore 20 e 30. 24 dicembre dalle 10 e 30 street band itinerante. 24 dicembre dalle 11 incontra Babbo Natale e il pestifero Grinch. Dal 3 gennaio addobbi per la Befana. 5 gennaio dalle 17 aspettando la Befana. 6 gennaio dalle 17 il party della Befana. 6 gennaio dalle 17 e 30 pettolata con degustibus. 6 gennaio dalle 18 estrazione finale del tesoro della Befana. Primo premio 2000 euro in buoni shopping e in regalo dolcissime calze. Che fantastico Natale presso il centro commerciale Mongolfiera Taranto.